Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così gli aggiornamenti, gli ultimi aggiornamenti del 30 agosto 2024, come puoi vedere a me c'è scritto installazione riuscita, però se tu hai riscontrato problemi tipo installazione non riuscita dell'aggiornamento, quindi in questo caso è possibile risolvere tutto attraverso tutti questi metodi che ti farò vedere nel video, quindi in questo caso andiamo un attimo sul nostro risoluzioni problemi, quindi andiamo direttamente a scrivere risoluzioni problemi fino a trovare impostazioni di soluzioni problemi, una volta fatto entra su altri strumenti di risoluzione dei problemi, clicchiamo direttamente su windows update per capire qual è l'errore, così facendo attraverso questo errore possiamo andare a vedere di ripristinare l'errore di windows update, quindi di aggiustarlo, poi riavviare il sistema e vedere se possiamo fare l'aggiornamento. Quindi facciamo un attimo esegui per rilevare i problemi, verifica la presenza dei problemi in windows update, è stato rilevato 1, alcune impostazioni di soluzioni mancate o sono state modificate e qui è stato risolto, quindi diciamo che il problema è stato risolto, facciamo sì e posso chiudere così lo strumento di risoluzione dei problemi. Una volta fatto andiamo direttamente sul nostro powersheet, quindi powersheet lo tengono tutti, quindi scrivi qua sopra powersheet, tasto destro sopra, esegui come amministratore. Scrivi qua sfc spazio slash per fare così un ripristino è una verifica di file, quindi facciamo scanno sfc spazio slash scanno e fai invio, avvio in corso dell'analisi del sistema, quindi l'operazione richiede alcuni minuti e quindi non ti resta che aspettare. Una volta così fatta la verifica puoi chiudere il powersheet. Ok, una volta fatto andiamo direttamente in descrizione, ti ho lasciato così un comando da inserire direttamente sul documento di testo, quindi in questo caso crea così un documento di testo, quindi fai nuovo, crea un documento di testo, entra nel documento, fai copia e incolla qua dentro tutti questi comandi qua. Facciamo file, salva con nome, tutti i file, lo salvi direttamente sul desktop e lo rinomini fix.bat. Ora, cosa farà questo documento? Andrà così a cancellare, farà un ripristino di quello che hai scaricato su Windows Update, quindi lo aggiusta, ok? E' giusta così il nostro Windows Update, fa un ripristino e vediamo se possiamo riscaricare e reinstallare così i nostri aggiornamenti. Quindi qua vai a scrivere fix.bat e fai salva. Ok, una volta fatto questo documento di testo, quindi lo posso pure buttare e questo è il comando. Esegui come amministratore e facciamo sì. Ora, continuare questa operazione, facciamo sì. Quindi, metti S e fai invio. Una volta fatto, è necessario riavviare il computer. Una volta fatto tutto, quindi aspettiamo che finisca il procedimento. Ok, abbiamo fatto. Ora, non ti resta che riavviare il computer. Se non dovesse funzionare, andiamo direttamente sulla cartella qua, sul nostro esplora risorse. Facciamo questo PC, disco locale C. Scendi fino a giù fino a trovare Windows. Scendi fino a giù fino a trovare il Software Distribution. Download. E vai a cancellare così la cartella di Download qua dentro. se il tuo aggiornamento è stato scaricato e non installato. Quindi, cancella la cartella di Download. Chiudiamo un attimo qua. Andiamo su Servizi. Scrivi qua sopra Servizi. Scendi fino a giù fino a trovare Windows Update. Ci clicchiamo sopra. Tipo di avvio. Metti Automatico. Lo stato del servizio si è arrestato. Metti avvia e fai Applica. E facciamo OK. Ok. Ora, come ultimo procedimento, non obbligatorio, però potrebbe servirti, è quello di scaricare manualmente l'aggiornamento di Windows Update. Ed eccolo qua. Ovviamente, vai così a copiare l'aggiornamento che devi fare. Quindi, andiamo sul nostro Windows Update. Cronologia degli aggiornamenti. Prendi così l'aggiornamento KB5041587 del 30 Agosto. Quindi, fai Copia. E lo incolli qua. Molto fatto. Vai a scaricare direttamente il secondo. 22. O scarichi il 22H2 per 64 quello che è uguale a questo qua. Quindi, in questo caso, a me è 23H2. Quindi, vado a scaricare il 23H2 per 64. Sistemi basati per 64. Quindi, clicca direttamente su Download. Ed eccolo qua. Se il file finisce come .msu, puoi scaricarlo e installarlo senza problemi. Quindi, il file deve finire come .msu. Clicchi sopra, scarichi e installa il tuo aggiornamento. E riavvia il tuo sistema. Per altri problemi ancora, puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.